eccoci qua buon buona sera è di pepsi o eccoci qua finalmente in questa live di ti va di giocare ok l'ho anticipato un po oggi non l'abbiamo fatta nell'orario consueto è di solito alle 21 oggi alle 17 perché sono in procinto di partire ciao mi piace sulla fiducia grande chris grazie buonasera buonasera ok oggi live anticipato alle ore 17 live che sarà l'ultima diciamo della stagione di questa stagione di ti va di giocare a me va meglio quest'orario grandissimo meglio ancora ok siamo già in 10 fantastico ok questa live la volevo dedicare a tutte le vostre domande matteo eccolo qua il mitico moderatore di ti va di giocare ciao manuel ciao ciao a tutti ok perché anche sul gruppo di telegram ok noto sempre ogni tanto bazzico nelle domande vedo che un sacco di voi hanno dei dubbi delle domande anche abbastanza no diciamo basi elementare no quindi oma c'è il fabrizio non vola ecco lì grande fabrizio ok quindi volevo fare un post allaio per tutte le domande tutti i dubbi che avevate repressi quelli che non mi fanno dormire la notte no quei dubbi lì se avete qualche domanda qualche dubbio sulla lingua giapponese beh lì sono qui apposta sono qui apposta per aiutarvi va bene va bene perché anche non so chi di voi ci sarà qualcuno sicuramente che il 2 dicembre farà il jlpt come consigliato da te ho preparato un paio di argomenti quando posso grande eddy quando vuoi ciao a tutti ciao antonio ciao ciao fiorella japan ciao ciao a tutti qualsiasi domanda abbiate prego sono a vostra disposizione ok risolviamola una volta per tutte ok in questa ultima live di questa stagione di settimana di giappare ok adesso martedì partirò due settimane per il giappone mi sono già preparato i video quindi usciranno regolarmente finito novembre ok tutto dicembre si va di giappare andrà in pausa andrà in meno pausa ho paio dice blendy sei svegliato adesso buongiorno conici a dice ragia conici a mi puoi parlare della differenza tra le posposizioni te e ni in che senso vuoi intendere dice eddy no differenza tra te e de forse intendevi de vero grande matteo grazie grazie mille farai qualche vlog dal giappone più che vlog ho in mente ho in mente altre ideuzze ok non non faccio vlog non faccio cibo sta roba qua perché non è mio interesse io parlerò di lingua giapponese come sempre mi concentro sulla lingua giapponese ragazzi qua è un canale di lingua giapponese roba noiosa roba grammaticale ok coni ti va luca di nulla grande matteo grazie allora eddy ok chiedi la differenza tra de e ni non te vero ok allora se lo usiamo come de sia de che ni ok le possiamo usare dopo i luoghi ok tipo tokyo ni tokyo de ok in entrambi i casi significa a tokyo in tokyo ok ni hon ni ni hon de in giappone ok entrambe solo che ni viene usato principalmente ok quando ci sono i verbi di esistenza ok quando si esiste sono veramente pochi ok sono aru iru esserci sumu abitare ok abitare è considerata un'esistenza ok oppure pochissimi altri ok ma anche con le direzioni iq per esempio iq andare no ecco in questi casi si usa ni in tutti gli altri diciamo quindi non verbi di esistenza ma verbi di azione si usa de ok con i verbi di azione che sono la stragrande maggioranza eh quindi abbiamo tabere mangiare nomu bere ben kiosur studiare ok con tutti questi si usa de quindi se dico tokyo ni iru sto dicendo sono a tokyo tokyo ni se invece voglio dire bevo a tokyo non dico tokyo ni nomu a dico tokyo de nomu ok è una live fatta apposta per le domande giusto certo luca tutti i dubbi che c'hai siamo qua apposta per risolverli ok risolviamoli una volta per tutti che il 2 dicembre ci sarà il jlpt qualcuno di voi sicuramente lo farà se avete dei dubbi c'è anche una post ragazzi ciao davide non capisco bene l'uso di un'espressione del jlpt n1 goto goto ni goto quindi attraverso una certa cosa adesso non mi stai questo è un argomento molto complesso goto ni eh mi pare attraverso mediante questa roba qua non volete dire una velinata me lo sono dimenticato è presente quando fai la patente che poi ti dimentichi tutto la stessa cosa goto ni perché non si usa raramente nella vita reale una roba da esame più che altro cavoli non mi ricordo fai un video dove fai una conversazione con una persona giapponese e con i sottotitoli in italiano bella idea bella idea sì sì lo farò sicuramente grande verso meta live pubblici del raduno sì poi lo diciamo eh matteo sarebbe interessante un video mentre conversi con un madrelingua magari con sottotitoli ok dice anche chris perfetto sicuramente lo farò bravi tu io blendy abbiamo avuto la stessa idea grandissimi sicuramente lo farò sono andrea su telegram un saluto veloce ciao andrea benvenuto ciao mi puoi spiegare la forma verbale ikundes ok ikundes è abbastanza eh come dire non dico complessa ma una volta è un po difficile entrare nel meccanismo ma una volta che ci entri lo capisci allora abbiamo ik da una parte e ndes ik è andare ok ovviamente ndes questo ndes in realtà quella n è no 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 eh esiste la fo cioè questa forma particolare si chiama no des che la sentirete molto spesso ok tutti eh la demonizzano perché hanno paura ma non è non è così complicata questo no des nel linguaggio parlato si contrae i in ndes ok il no diventa n cosa vuol dire se mi metti no des in una frase affermativa vuol dire che mi stai dando una spiegazione ok la sfumatura è che mi stai me la stai spiegando sta roba qua se io dico ik dico vado se io dico ik no des sto dando sto alzando il volume della spiegazione non sto dicendo vado sto dicendo e che vado e che ecco questo no des si traduce con e che diventa ndes ok nel parlato ik un des e che vado per quello non posso stare a parlare tra parentesi per capisce per quello dai la spiegazione ik un des e che vado per questo non non ti posso dare retta e che vado ok questo ndes e no des rom tokyo on way buonasera claudia buonasera sapresti spiegarmi la differenza tra dan dan e don don ok questa è una differenza abbastanza comune quel dan dan il dan in realtà deriva da kai dan ok scalino che volentosi col tempo è diventata la nomatopea dan dan che però in origine deriva da scalino quindi dan dan significa scalino scalino cioè partendo da zero dan 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 pian piano partendo da zero pian pianino la situazione si è evoluta don don invece non è pian pianino ma è è d'impatto uno dopo l'altro don don questo don sarebbe tipo boom 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 uno dopo l'altro ok quindi non è graduale don don è d'impatto perché magari c'è gente che non lo sa sì matteo dopo dopo lo dico sicuramente allora allora vediamo un po che domande abbiamo quasi ori il buon fabrizio mi chiede differenza tra nero e nemuri forse intendevi nemur verbo ok nero è dormire nemur è addormentarsi prendere sonno capisci è difficile un attimo cogliere la sfumatura all'inizio ok nero è proprio dormire nemur è prendere sonno infatti i giapponesi dicono nemur erarenai non posso prendere sonno non posso addormentarmi non riesco ad addormentarmi ha già capito non ha già capito francesca dice ciao davide ciao giuseppe ha cancellato il messaggio perché perché giuseppe ciao io mi sto preparando per l'n5 ho vari dubbi dice nadia che spero di riuscire a risolvere il primo qual è la differenza tra sore cara e sore dewa ok nadia allora sore cara è composto da sore questo e cara particella che significa da ok quindi letteralmente sore cara significa da questo ho mangiato il sushi sore cara e da questo quindi si traduce con e poi e da questo fatto qua sore cara sono andato a dormire sore cara e poi dopo questo fatto ho fatto quest'altro sore dewa è più una 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 un'espressione della serie bene 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 well no l'inglese well sore dewa hajimemashou bene signori iniziamo sore dewa hajimemashou capisci quel sore dewa lì è più un'espressione ok se ci saranno dei giapponesi a milano dice matteo potremmo fare dei video tipo blog di come è andato il primo raduno e dialoghi con i giapponesi sì 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 sicuramente qualcosa qualcosa combiniamo matteo eh eddie pepsi puoi parlare della forma negativa della forma te e degli aggettivi hai capito l'eddie va sul pesante qua eddie eh allora la forma te ok ha per quelli che la conoscono ok per quelli che non la conoscono è un casino comunque la forma te ha una sua forma negativa ok te è normale eh non ha non ha tempo non ha niente te e basta però può essere coniugata al negativo eh dei verbi no manca degli aggettivi comunque la forma te come si fa abbiamo due possibilità abbiamo eh avete presente che un verbo finisce nai ok nai lo trattiamo come se fosse un aggettivo i na i quindi na come si fa come si fa un aggettivo i in forma te na kutte na kutte tipo taberu mangiare tabenai non mangiare tabenakute forma negativa eh forma te negativa del verbo mangiare cosa vuol dire vuol dire non mangiare e la frase continua però bisogna fare attenzione perché la forma te ha un'altra versione negativa che si fa con na i de ok qualsiasi na i più de quindi mi diventa tabenai de cosa vuol dire tabenai de attenzione perché non vuol dire non mangiare e ma c'è un'altra sfumatura vuol dire non mangiando è quella lì la fregatura attenzione è quella lì la fregatura se io se io ti dico asa gohan o tabenakute itta sto dicendo non ho mangiato la colazione e sono andato e invece che in questo caso stona non ho mangiato la colazione e sono andato è meglio dire in questo caso asa gohan o tabenai de itta non mangiando la colazione sono andato quindi sono andato non mangiando la colazione senza mangiare la colazione ok questa roba qua faccio non facendo la sfumatura non facendo la si rende con na i de ok come si dice tanto ho perso tutto raga ho perso tutto si orio come si dice tanto e poco nel senso di ci sono tante persone e non penso si usi totemo o su goku ok totemo e su goku si usano principalmente in aggettivi ok totemo kire molto bello su goku kire stessa cosa molto bello no super bello ok pertanto di quantità non di qualità si usa takusan takusan ok quindi per esempio se dico hito ga iru le persone ci sono hito ga iru potrei dire hito ga ci fico takusan iru ok takusan tante di quantità anche se in realtà con le persone spesso si usa invece un'altra cosa ose ok ma la regola generale è takusan ok tante 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 cose tante ok ciao giuseppe potresti per favore fare una presentazione generica su come funziona l'esame non lo faccio quest'anno però mi piacerebbe farlo in futuro allora l'esame ha cinque livelli ok principalmente in italia si fa a roma venezia e milano ok cinque livelli di cui il cinque è il più facile attenzione che è al contrario il cinque è il più facile l'uno è il più difficile tu vai lì ti danno una scheda con con delle domande cioè tutto a pallini ok tu non devi scrivere non devi parlare niente tutto devi fare a x cioè x a colorare il pallino ok nella risposta esatta non devi dire e scrivere nulla è tutta a pallini principalmente c'è la prova di kanji ok la prima prova è di kanji quindi riconoscere i kanji come si legge questo kanji oppure questo hiragana non è l'incontrario che kanji con che kanji si scrive in realtà tra i kanji ok c'è anche il lessico quindi questa parola come in che frase la useresti poi la seconda prova è grammatica ok quindi metti la forma qual è la forma corretta la forma verbale corretta e poi la prova di lettura quindi ti danno un fardelletto da leggere devi rispondere a delle domande tattiche ok c'è tipo delle storielle da leggere con delle domandine e infine la prova d'ascolto ok io pensavo che l'ascolto fosse ognuno con le sue cuffiette che puoi mandare indietro avanti come vuoi sta ceppa ok ti mettono uno stereo play l'audio parte chi ascolta bene chi non ascolta s'attacca e infine l'audio ok in linea generale è questa betta mi chiede se posso una domanda ma certo ho studiato che mon serve per dare una spiegazione l'ho sempre visto dopo da funziona tipo rafforzativo mon è però una spiegazione più che rafforzativo è il contrario è ammorbiditivo è un ammorbidente mon nella maggior parte delle volte abbastanza femminile ok è che dai è come se ti scusassi ok la sfumatura è che è di scusa è di scusa tipo se mangi una torta potresti dire onaka sui tanda mon è che avevo fame ok è questa sfumatura un po un po bambinesca un po ok un po così mon scusami ma è che è che avevo fame questo mon qua dalla spiegazione con questa sfumatura qua ok cyber live mi chiede puoi spiegarmi io meglio alla fine non capisco perché anche se non dice tipo lo sai viene usato comunque non so se mi sono spiegato bene anche se non dice tipo lo sai ma già capite comunque io alla fine no tipo che sembra la reppata io da diciamo che equivale a un punto esclamativo questo io che si sente tantissimo alla fine ok noi in italiano usiamo molto più l'espressione vocale ok in giapponese è un po più piatto ok come parlato ok quindi le sfumature che noi col tono in giapponese si danno con queste particelle di fine frasi tra cui io io è un punto esclamativo quindi è un'esclamazione che rafforza rafforza quello che ho da dire rafforza la mia opinione ok se io se per esempio dico iku sto dicendo un piatto vado iku vado se dico iku yo lo sto esclamando iku yo ok come se fosse un punto esclamativo iku yo vado capisci in italiano questa roba qua la esprimiamo con con la tonalità invece che vado dico vado ok questo rafforzamento in giapponese si fa con io oppure potrei dire o ishi buono o ishi oppure o ishi io che buono capito o ishi io è buono è proprio un'esclamazione più forte che rafforza quello che ho da dire capisci ivan buonasera giulio buonasera buonasera ivan mi stavo perdendo la diretta da quanto siete in live da 19 minuti e 39 pronto occhio one way grazie ho chiesto anche ai giapponesi e non sono riusciti a spiegare perché è sempre così ai giapponesi cioè anche noi se magari qualcuno mi chiede l'uso di qualche congiuntivo condizionale particolare ok se non te lo vai a studiare del perché no è difficile che un madrelingua sia si accorga di quello che del perché delle cose è vero grazie andrea gentilissimo marco drago ciao carissimo davide mi consenta mi consenta posso chiederti gentilmente cosa dicono i giapponesi quando brindano tipo noi diciamo cin cin alla salute loro cosa dicono ok hai toccato un tasto dolente perché in giapponese cin cin vuol dire pisello pisellino ok insomma il pene cin cin detto un po bambina bambinamente pisellino quindi cin cin è meglio evitare ok i giapponesi dicono kanpai 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 così ok questo caffè te lo meriti grazie 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 mille andrea gentilissimo ok esatto ivan dicono kanpai ci sono diverse espressioni che non sono solo da esame ma purtroppo bisogna impararle per passarlo comunque sto in macchina scusa se ti ho chiesto due volte la stessa cosa ah che mi hai chiesto prima di gotoni ti giuro non me lo ricordo sono sincero gotoni a parte nell'esame non l'ho quasi mai più visto nella vita mi sono dimenticato cosa significhi gotoni mi pare che vuol dire non mi ricordo non mi ricordo mi dispiace davide sto studiando per un'importante interrogazione riesco solo a leggere la chat e moderarla ma non riesco a sentire a matteo a scherzi a studia per l'interrogazione ci mancherebbe ci mancherebbe ciao davide potresti spiegare il costrutto koto ga aro e il costrutto tomo chiede marco tesla ok allora koto ga aro ok koto significa cosa cosa astratta se tu me me lo devi appiccicare a un verbo al passato ok cioè per questa specifica forma quindi se io ti dico i i ku vuol dire andare itta sono andato itta ok andato andare al passato itta koto significa la cosa astratta di andato letteralmente itta koto cosa significa significa il fatto di essere andato itta koto il fatto di essere andato cosa fa lo marchiamo con la particella ga perché compie un'azione itta koto ga il fatto di essere andato che azione compie aru esserci c'è itta koto ga aru il fatto di essere andato c'è quindi ho questa esperienza il fatto di essere andato c'è nella mia vita ho questa esperienza ok passato koto ga aru si usa per indicare l'esperienza ok quindi sushi o tabeta koto ga il fatto di aver mangiato il sushi aru c'è quindi ho l'esperienza nella mia vita di aver mangiato il sushi ho ho mangiato il sushi nella mia vita oppure potrei addirittura dire sushi ho ha il sushi tabeta koto ga il fatto di averlo mangiato nai non c'è ok il sushi il fatto di averlo mangiato non c'è il sushi non l'ho mai mangiato invece to omou ok omou significa pensare pensare omou regge la particella to questo to dobbiamo pensarlo come un due tre virgolette ok mi dà un dialogo un discorso quindi se io dico oishi vuol dire buono oishito ok con questo to faccio oishi to omou penso omou penso che cosa pensi oishito penso buono penso oishi penso che sia buono ok oppure potrei dire anohito fabrizio da quella persona è fabrizio anohito fabrizio da potrei renderlo un dialogo ok un discorso con to anohito fabrizio da to omou penso cosa penso anohito fabrizio da to ok penso che quella persona sia fabrizio sono arrivato adesso obbligato a montare una scarpiera a ikea grande nicola andata bene l'hai montata giappone a quattro mani e ho beccato una live grande davide grandi mi ho perso andrea e sabrina ok andate andate se il giappone nel canale giappone a quattro mani perché sono troppo simpatici questi due ragazzi ok troppo simpatici ok io ho iniziato a seguirli per caso sentivo che avevano la cadenza la cadenza un po un po desena un po di savona ho detto ma questa cadenza quello già sentita ok scopro che sono di savona attaccati a me andatene a seguire mi raccomando perché sono troppo simpatico è normale che ci sia molto ritardo con i messaggi della live veramente non lo so per quanto riguarda i contatori co è per gli oggetti piccoli e rotondi giusto però mi è capitato di vedere mele e mandarini con il contatore generico si può usare anche quello chiede nadia allora il contatore giallo per eccellenza è sto famoso sto benedetto su che sfiga vuole c'ha due sfige su tutte le letture che ha sono irregolari ok quindi se ichi è uno per dire una cosa non si si dice ichi zu ma si dice hito zu ok e così via seconda sfiga di zu che si può usare praticamente per quasi tutto ok un contatore jolly per tutto zu però mi arriva fino al dieci ok undici dodici giùici zu giùni zu non se può fa non gesta con zu si può contare fino a dieci quindi cosa succede cioè culturalmente storicamente è nata l'esigenza di un contatore che andasse avanti ok questo co il contatore co si usa principalmente per le cose piccole e rotonde ma data questa esigenza è diventato anche lui un contatore jolly è diventato un contatore jolly ok mi ricordo che per esempio in un ristorante di sushi in giappone un giapponese cliente aveva detto futatsu ok parlando dei nigiri ok aveva detto futatsu 2 e il sushi man ok il tizio che faceva sushi che ha detto ah nico ok sebbene fossero entrambi giapponesi ok hanno usato sia zu che ko per indicare la stessa cosa ok con ko si può andare avanti dopo il dieci ok quindi in quel caso li devi usare per forza ko anche lui è abbastanza jolly ok allora il buon ma giulio chi è giulio davide potresti spiegare un po la forma in te vorrei capire meglio come si fa a distinguere un verbo istantaneo da uno durativo caro giulio mi vai mi vai in un argomento abbastanza ostico ok in giapponese ci sono per quelli che non lo sanno ve lo spoiler ok un giorno lo scoprirete ci sono verbi istantanei e verbi durativi la maggior parte sono verbi durativi cosa vuol dire durativi vuol dire che possono avere una durata possono avere un lavori in corso possono possono capire avere una durata per esempio tabere mangiare è durativo perché può avere una durata tu stai intendendo però la forma te iro esatto sì sì scusa perché non l'avevo detto ok te iro se dico tabe te iro sto dicendo sto mangiando in questo momento in questo arco di tempo sto mangiando tabe te iro perché perché tabero è un verbo durativo può durare può durare nel tempo e questa è la stragrande maggioranza dei verbi ok il 90 per cento dei verbi se me li fate in te iro significa star facendo adesso perché hanno una durata ci sta la fregatura signori ci sta la fregatura perché perché ci sono alcuni verbi che sono istantanei istantanei cosa vuol dire istantanei che non possono avere una durata non possono avere dei lavori in corso ok tra questi spiccano tra tutti il verbo iq è lì la fregatura iq andare è istantaneo perché per la grammatica giapponese se vai o sei arrivato o non sei arrivato non c'è la durata capite la fregatura è un concetto molto difficile da capire all'inizio se dico quindi iq lo faccio in forma te iro i te iro non significa sto andando perché iq non può avere i lavori in corso non posso trasmettere la durata del verbo iq col te iro i te iro significa che quel verbo iq è già stato compiuto perché è istantaneo o lo fa o lo sono o non lo sono i te iro significa sono arrivato capite la fregatura i te iro non vuol dire sto andando vuol dire essere nella condizione di aver già compiuto mi sembro berlusconi ho già compiuto il fatto di essere andato ho già compiuto l'azione iq e non è in corso cioè è in corso nel senso che è già stata compiuta capite la fregatura i te iro tipo tokyo ni i te iro significa sono nella condizione di essere andato a tokyo sono a tokyo non sto andando a tokyo ma sono veramente pochi i verbi istantanei ok la stragrande maggiore e basta imparare un attimino a memoria è tutta lì la questione ok la maggior parte stragrande si traducono con sto facendo non de iro sto bevendo ma grazie davide dice giappone a quattro mani ma grazie a voi davide alle 25 uscirà il libro io non so leggere né scrivere nulla in giapponese capisco che anche comprandolo non riuscirò a parlarlo come tema potrebbe essermi di grande aiuto certo ivan perché il mio libro è fatto apposta per quelli non che iniziano da zero che iniziano da sotto zero ok è fatto apposta per quelli che non sanno niente che vogliono avvicinarsi in maniera divertente alla lingua giapponese ok quindi non ti preoccupare se non sai nulla né leggere né scrivere perché è fatto anzi a maggior ragione è fatto apposta per te inizia da sotto le basi da sotto zero cioè riesce a darmi delle piccole basi assolutamente è fatto apposta per le basi Andrea Giraldo ciao davide ciao Andrea ciao buonasera Mario ciao davide il tuo libro è adatto a chi è alle prime armi e spiega le basi grammaticali assolutamente sì ok inizia proprio da sotto zero è fatto apposta per le persone che vogliono avvicinarsi alla lingua e si spaventano a vedere i tomi bianco e nero senza spazio senza niente quindi provatelo provatelo Mario dice ah no Mario ha già letto Lorenzo dice sai qualche trucco per ricordarsi i tempi dei verbi per le frasi composte con cara made eccetera i tempi dei verbi per le frasi composte con cara in che senso? dici non ho ben capito la domanda tu le intendi cara e made le intendi come da a vero? quindi cosa intendi per i tempi dei verbi? non ho ben capito quindi sto andando in Giappone non esiste dice di sto andando esiste ma si dice in un altro modo non si esprime con te iro si esprime con verbo più tociu questo tociu significa essere a metà di una cosa essere nel bel mezzo di una cosa quindi iku tociu essere nel bel mezzo del verbo iku quindi sto andando ok se devi esprimere il verbo cioè i verbi istantanei li devi esprimere in sto facendo adesso ci devi mettere sto benedetto tociu ok rara come cosa però ogni tanto si vede Delia dice ciao ciao Delia miroku konbawa Jasmine ciao Davide quindi con il tuo libro a quale livello di giapponese si può arrivare? dice Jasmine il mio libro è fatto apposta per quelli che iniziano da zero assoluto da sotto zero e facendolo tutto si arriva appena sotto l'N5 ok se parliamo di JLPT si arriva appena sotto l'N5 perché non sembra ma l'N5 è veramente complicato c'è molta più roba richiesta di quella che sembra ok quindi non ci stava in tutto un libro arrivare fino all'N5 con il secondo libro di TVA di giappare si arriverà a un N5 completo ok se però fai il mio primo libro e ti arrangi un po' da sola sbazzicando su internet ok qualche forma grammaticale richiesta per l'N5 te lo fai tranquillamente ok il libro ti dà più che le basi da sotto zero si arriva a più che le basi ok però l'N5 è veramente più complicato di quello che serve quello che sembra scusasse ciao Davide dice probabilmente non ti è arrivata la domanda ti volevo chiedere la differenza tra di sa e mi negli aggettivi perché non capisco quando usare per esempio sa mu sa o sa mu mi o ama mi o ama sa ok ti dico subito che la 95% delle volte si usa sa se mi vuoi trasformare un aggettivo in un sostantivo ok tu ficcati in testa che sa è quello che va quasi sempre bene ok per esempio oishi buono oishi mi togli l'ultima i e mi metti sa e vuol dire bontà oishi buono oishi sa la bontà oppure utsukushi bello utsukushi sa la bellezza me lo trasformi ok in un nome 95% delle volte ci va sa è mi che è la come si dice quando è fuori da come mi viene la parola che è l'eccezione ecco caniseria è mi che è l'eccezione che si usa veramente in rari casi come mi viene in mente kanashi triste kanashi mi tristezza ok quindi ti conviene impararti a memoria quei pochissimi che vogliono mi perché la maggior parte vogliono sce lorenzo natali karà come visto che sono andato allora faccio ah ok karà inteso come visto che dato che ok i tempi dei verbi dipende da semplicemente da cosa vuoi dire ok quindi ma dè in questo caso non c'entra niente ok ma dè va in coppia con karà solo se karà me lo intendi come da se mi intendi karà come dato che ma dè non c'entra più niente ok se se in italiano ok pensare in italiano se mi vuoi dire un verbo al presente anche in giapponese ci va al presente ik andare ik karà siccome ik siccome vado ok è è al presente ik karà siccome vado bye bye oppure se in italiano me la vuoi fare al passato siccome sono andato anche in giapponese me la fai al passato it ta karà it karà dato che sono andato dato che it ok dove avevi difficoltà non capisco a cosa ti riferivi ok se in italiano me la intendi al passato anche in giapponese va al passato la fregatura qual è la fregatura con karà è che se in italiano mi ci metti il verbo essere se ci va un verbo essere anche in giapponese anche in giapponese ci va grammaticalmente il verbo essere ok quindi se se mi vuoi dire visto che sono italiano visto che sono italiano verbo essere non mi diventa itariajin karà mi ci devi mettere il verbo essere itariajin da karà itariajin da karà ok grammaticalmente ci vuole che in questo caso può essere sostituito da des se stiamo parlando in forma formale itariajin des karà siccome sono italiano però attenzione ricordiamoci che gli aggettivi i non vogliono mai il verbo essere grammaticalmente oishi karà significa dato che è buono oishi da karà eh bazz come dicono i giapponesi bazz sbagliato ok quindi attenzione solo a quando ci sono i verbi gli aggettivi i che non vogliono mai da potresti salutare mio figlio Leonardo e mia moglie Roberta ti salutano anche loro certo Ivan ciao Leonardo ciao Roberta grazie grazie mille per il messaggio e per seguirmi so che significano più o meno la stessa cosa ma non so quando usarli Stefano Scattini ciao buonasera ciao ciao buonasera a te Lorenzo oppure yube yoku neta karà kyo wa genki da eh dove dov'è il il problema in italiano è la stessa cosa yube quindi l'altra sera yoku neta al passato neta ho dormito bene yoku neta ho dormito passato yoku neta karà siccome ho dormito bene kyo wa genki da oggi sono in forma sto bene presente in questo caso perché stiamo parlando di oggi capisci? esattamente come in italiano siccome ho dormito oggi sto bene presente ok se me ne vuoi invertire cioè se mi puoi cambiare a come ti pare yoku neta karà siccome dormo bene al presente ok oppure yoku nenakata ok siccome non ho dormito bene ok me li puoi me li puoi scambiare come vuoi non c'è problema Andrea mi dice Davide Samama non esageriamo ma n5 non richiede la forma in masa si 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 l'n5 la richiede ma nel mio libro la accenno non è che non la tratto eh la la tratto in maniera molto approssimativa ma la tratto ok perché si si assolutamente è un argomento troppo importante però l'ho messo assolutamente in secondo piano perché 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 il mio metodo il mio stile l'ho messo il master l'ho messo in secondo piano però c'è 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 vedrai che sfogliando il libro lo troverai conosce in sé stecky stecky honton grazie grazie saluti a tutti rom tokyo te ne vai claudia allora ci vediamo ci vediamo poi a tokyo eh sabato prossimo grazie di aver partecipato spero di esserti stato d'aiuto grazie mille per la spiegazione siete curiosi e arigato non mi ricordo cosa intende kit ma comunque non mi ricordo più comunque sono contento di esserti stato d'aiuto ok scusa capito ma dè non c'entra ah ok ok in questo caso ma dè non c'entra ok col cara nel senso di bravura dici miroco ok stecky vuol dire più che altro bello ok quindi mi hai detto che sono uno gnocco ti ringrazio ma bravo potremmo dire umai ok che vuol dire anche buono ma vuol dire anche bravo oppure jose ok comunque ti ringrazio Giappone a quattro mani salutano la claudiona c'è differenza tra gli aggettivi hosoi e usui sottile fine si riferiscono a oggetti diversi allora hosoi fisicamente come si dice più che sì sottile fine tipo no i i sushimaki ok si dividono in futomaki i maki grassi futo e hosomaki ok quindi sono stretti di circonferenza ok usui è più che altro un un fine in in senso in senso astratto ok non più che fisico usui è tenue è tenue ok tipo mi viene in mente usui a o a o un blu tenue una cosa del genere ok per l'n5 si è richiesta la forma in massone abusano dice il buon fabrizio non vedo l'ora di comprare il tuo libro dice branf grazie mille ti ringrazio spero che ti servirà ti serva scusa basta grazie proprio quello che volevo sapere dice lorenzo ok risolta la la questione ok spero di esserti di aver chiarito la situazione ok lorenzo quanto costa il tuo libro ok io avevo avevo impostato il prezzo a 26 e 90 più le spese di spedizioni ho trattato con amazon alla fine abbiamo raggiunto la cifra di 28 28 e 90 spedizioni incluse ok le spedizioni sono incluse nel prezzo gratuito Fabrizio Mazza grazie Kangaero e Omou differenze chiede Anastasio ok allora sia Kangaero che Omou ok in italiano possiamo tradurli con pensare però Omou è un pensare come dire dal cuore è un pensare di 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 impatto cioè Kangaero è più che altro un riflettere Kangaero ci metti ci metti energia nel Kangaero ci metti sforzo perché rifletti ok quindi posso dirti eh kore wa sushi da to omou penso ritengo ok con Omou penso ritengo senza sforzo che questo sia sushi Kangaero è è è un pensare ragionato sto valuto penso ragiono se ok eh per esempio eh kore kore ga sushi ka do ka to Kangaero ok pensare se questo è sushi o no capisci quel Kangaero in questo caso ci va la riflessione lo sforzo mentale Kangaero sto riflettendo se questo è sushi o no eh Branf chiede con il tuo libro potrò arrivare al livello JLPT N5 appena sotto ok appena sotto il N5 è molto più difficile di quello che sembra eh se ti fai se ti spari tutto il libro e poi vazzi su internet a vedere le forme grammaticali richieste specifiche per l'N5 sicuramente ce la fai Ivan mi chiede Davide ma qua ogni quanto vai in Giappone ogni quanto posso possibilmente eh una volta l'anno se riesco adesso sono già due anni che non vado andrò eh martedì questo martedì il 13 parto sto due due settimane in Giappone finalmente dopo due anni che non vado perché ho un'astinenza incredibile ragazzi credetemi se se non siete mai stati in Giappone una volta che andate vi viene il mal di Giappone e dovete tornarci io comincio durante tutto l'anno da appena torno dal Giappone o i rumori i suoni gli odori tutti tutto mi ricorda il Giappone mi sento male non vedo l'ora di tornare proprio una sensazione assurda il mal di Giappone riconosciuto dalla medicina internazionale ok quindi parto martedì eh starò un paio di settimane faccio due raduni con i giapponesi ok che mi seguono sul canale Italia Goda Tarado ok dove insegno loro l'italiano ho già organizzato due raduni con loro se siete in zona eh se siete in Giappone ci vediamo ok il sabato 17 sarò a Odaiba e invece il 24 sarò a Osaka se siete in zona se siete in zona Cishibek eh Rogi non solo sto imparando ma il mio compagno si sta ricordando delle sue di lezioni di giapponese ok ok sto risvegliando in lui i ricordi ancestrali fantastico sono contento che stai imparando grazie mille ho un'altra domandata dice il il buon Fabrizio rascine sembra che si piazza a fine frase sì 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 il rashi ok si piazza a fine frase stile to omou ok stile pensare che però questo rashi è è appunto come dici tu sembra che ma non sembra che perché lo stai guardando e ti sembra che in quel caso lì si usa so ok quando i giapponesi vedono un piatto dicono o ishi so sembra buono lo sto guardando è davanti a me e sembra buono o ishi so invece il rashi è un sembra che ma perché l'ho sentito in giro ma perché l'ho letto sui giornali l'ho letto su internet in quel caso lì è rashi se dicono se dico o ishi rashi sto dicendo a quanto pare a quanto ho sentito sembra buono ma non perché lo sto guardando ma perché l'ho sentito in giro Deborah Iba buonasera Ivan ma ora sei a Milano lo organizziamo un aperitivo no non sono a Milano sarò ah ne approfitto grande Ivan ne approfitto per dire a tutti che ok il 2 dicembre giorno di JLPT sarò a Milano ok si hanno confermato con Sabrina e Andrea di Giappone a quattro mani e con Simone del canale Omotenashi Anime ok organizziamo un mini radunello tra noi appassionati di Giappone e giapponese ok ci vediamo il 2 dicembre alle ore 17 manca un po' prima eh è verso quell'ora lì in piazza Indro Montanelli ok se siete in zona ci beviamo un aroma ci beviamo una roba in piazza Indro Montanelli a Milano ok andiamo con i baus facciamo un po' i baus a noi stessi va bene ok quindi segnatevi la data se fate ovviamente il JLPT quando finite ci vediamo lì perché siamo già lì in piazza ci si potrebbe incontrare tutti certo Ivan ok quindi se il 2 dicembre a Milano ok ci vediamo in piazza Indro Montanelli dice wonder choose secondo te dovrei aspettare di sapere benissimo l'iraganà oppure dovrei subito buttarmi sul katakana sapendo abbastanza bene l'iraganà e avendo ogni tanto dei dubbi questa è un'ottima domanda allora odiare il katakana è assolutamente un classico ok tutti odiano il katakana perché perché uno si fa un culo così a studiare l'iraganà lo finisci dici ah ho finito sta ceppa devi farti anche tutto il katakana ok quindi a sto punto mi viene da pensare ma è meglio studiarsi prima il katakana così uno se non leva dalle palle ok e poi si studia l'iraganà almeno almeno lo so passa quest'odio per questo katakana che tutti ce l'hanno tutti ok detto questo se se sai abbastanza bene l'iraganà io ti consiglio di andare avanti e studiarti il katakana ok perché io sono assolutamente favorevole alle infarinature ok secondo me sono quella la soluzione le infarinature sono la soluzione per non appesantire lo studio tu ti fai un'infarinatura di tutto l'iraganà ok senza stare lì a copiarlo duemila volte se no ti viene l'angoscia ti viene il vomito e cominci ad odiarlo ok meglio un'infarinatura leggera e e poi con l'esperienza ok ti provi a leggere senza tabelle noiose ti provi a leggere delle cosette delle frasette tutte iniraganà ti fai degli esercizi per i fatti tuoi ok e te lo impari con l'esperienza perché l'infarinatura ti avrà permesso di avere il cassettino della memoria nel tuo cervello quindi l'infarinatura te la fai senza senza soffrire e gli esercizi te li farai senza soffrire perché avrai già l'infarinatura secondo me è questo il metodo giusto con l'infarinatura ok quindi meglio non impuntarti io ti consiglierei di non ti preoccupare di andare avanti col katakana di farti un po' di katakana e vedrai che l'iraganà lo impari con l'esperienza capito grazie sto leggendo un libro N3 grande Alessio ah il mal di Giappone ogni tanto ci vengono le crisi acute dice Giappone ha quattro mani chi lo dice chi lo dice allora non so se sono pazzo io ma per me Tokyo sa di fragola ok io non so cos'è una pianta non lo so ma io sento l'odore di fragola ogni tanto lo sento anche qua questo odore di fragola mi viene male ogni tanto sento voi lo sapete sicuramente ok l'odore del retro ristorante ok dietro dei ristoranti dove ci sono le le cose dell'aria condizionata tutte impolverate quell'odore lì di curry un po' un po' stantio ok ogni tanto lo sento impazzesco ok il Giappone ti risveglia delle cose allucinate il dei semafori oppure il suono dei combini c'è da impazzire ragazzi il Giappone ti segna vita e vivrai vivrai nella costante di rivivere il viaggio finché non ci torni e poi è tutta una catena nell'area 5 ci sono i comparativi e le forme con yori e no hoga chiede Nadia i comparativi mi pare proprio di di no le forme con yori quindi neanche perché fa parte del comparativo e hoga i in senso come è meglio fare così quella lì c'è con tutti questi raduni tra Giappone e Italia più che vacanza vai in tour dice Fabrizio è troppo sì allora sì sì perché poi a Milano ok lo dirò anche ai giapponesi ok quelli per i giapponesi che abitano in Italia che quindi non saranno riusciti a incontrarmi lì in Giappone ok se sono a Milano gli dico di venire insieme insieme a tutti noi il 2 dicembre così organizziamo una bevuta tutti insieme anche con i giapponesi occasione per fare due chiacchiere in giapponesi con i giapponesi quindi motivo in più per imparare studiare ragazzi mi raccomando imparate bene eh fate un po' di pratica perché allora il 2 dicembre ci si vede e si parla con i giapponesi ragazzi non vogliono né sì né male però si parla con i giapponesi si fa conversazione ok punto sì ci saremmo anche noi dicono il Giappone ha quattro mani ok io vi chiamo i quattro mani quando dico quattro mani mi immagino due machamp ok però per me siete i quattro mani grandi allora ci vediamo lì il 2 dicembre questo messaggio in attesa di revisione mi dicono green noise ah devo dire mostra o nascondi ma cos'è ma cos'è mostra ti avevano bloccato il commento come mai le musiche dov'è ti ho sparito ciao Davide sono Andrea di Giappone a quattro mani dal mio canale musicale oggi ti seguiamo davvero a quattro mani grande Andrea andate anche nel canale green noise mi raccomando perché c'è il mio amico Andrea che fa trasposizione in italiano di sigle degli anime giapponesi una figatona andate assolutamente green noise perché è di una bravura eccezionale io già adoro i musicisti adoro la musica adoro le persone che suonano e compongono quindi tutta la mia stima Andrea mi dice io ho studiato prima il katakana e poi l'iragana ok grande Andrea quindi puoi confermare che è stata una metodologia che ha funzionato ok prima ti levi ti levi la rottura di valle del katakana così poi non ci pensi più è vero o no secondo me questa è la soluzione io non l'ho fatto ma mi vengo a pensare che sia questa la soluzione prima ci si leva sto katakana maledetto che tutti odiano allora Lorenzo Ross mi chiede ma la particella K serve per fare una domanda la particella K si serve per fare una domanda ma nel linguaggio formale ok quindi lo sentirai accoppiata con mas e des i ki mas ka andiamo oppure on to des ka ma veramente domanda ok questo K si usa nelle domande formali nelle domande informali quelle in forma piana con parenti amici non si usa K mi raccomando nel linguaggio piano le domande si fanno senza niente quindi se io dico takai sto chiedendo è caro ok senza K senza niente takai invece formale diventa takai des ka ok sicuramente avrete sentito questo K negli anni ok lo usano in forma piana ok ha tutto un altro senso un'altra sfumatura molto forte ok il K se mi mettete il K nella forma piana mi fa una domanda sorpresa quindi quindi se io guardo una mappa e dico France dico sto chiedendo è la Francia se io invece dico France K se ci metto il K nella forma piana sto esprimendo forte una sorpresa France K ma è la Francia ok quindi se volete evitare questo effetto così K nelle domande nelle domande in forma piana non si mette niente ok ragazzi direi che quasi un'ora io sono un po' cotto direi che ok mi leggo le ultime sono uno studente autodidatta studio giapponese da quasi un anno e mezzo ho imparato tutte le regole grammaticali e i kanji per EJL PT2 cosa mi consigli per migliorarmi? ragazzi Unides hai già detto tutto cosa potrei consigliarti? io posso consigliarti se non lo stai già facendo di chattare con i giapponesi ok io ho iniziato anni fa e mi ha cambiato la vita da così a così prima ok io prima di chattare con i giapponesi pensavo di parlare bene il giapponese sta ceppa iniziando a chattare con i giapponesi quindi il giapponese vero il giapponese di tutti i giorni mi hanno fatto un mazzo così ok un sacco di errori un sacco di robe ma ha stravolto la vita chattare con i giapponesi assolutamente perché proprio entri entri proprio non solo nella grammatica corretta ma anche proprio nella cultura corretta ok poi se lo conosci ti consiglio il sito lang8 ok lang8 ok oppure anche l'app hello talk dove puoi fare dei post che i giapponesi ti correggeranno ok quindi si si bisogna bisogna fare pratica e far sì di essere corretti arigato sensei dice wonder choose non mi ricordo a cosa comunque do itashimashite tokyo sa di fragola è vero mi confermano i quattro mani l'odore del ramen e del curry quello sì assolutamente grandi in un anno sei al jlpt n2 dice andrea è veramente è impressionante complimenti è vero complimenti anche i rumori sì mi confermano sì 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 le musichette trappananti di certi negozi non fanno tutte nostalgie è vero tipo alcuni veramente sono trappananti ma mi viene in mente quella di book off una cosa del genere io sono sedicenne posso venire il 2 dicembre no da 18 anni in su ma certo Alessi ma ci mancherebbe ti aspettiamo a braccio aperto mi raccomando piazza Indro Montanelli verso le 17 bello ma non vivo in Italia ah peccato vabbè troveremo modo di incontrarci prima o poi cosa scrive Andrea che lo censurano è vero ma è stato il sistema YouTube è contro di te Andrea contro di noi si è voluto censurare maledetti maledetti gombiotto in via Arzaga 8 a Milano il 25 11 ci sarà una specie di raduno presso una scuola giapponese non so molto ma questo è quello che mi avevano detto il 25 non non ne sapevo niente io però sono sono a ma dove sono sono a Yokohama in quella data lì non posso venire peccato vabbè comunque ci sarà un'altra occasione un sito online sul quale poter studiare giapponese e kanji ce ne sono tanti ce ne sono tanti faccio videochiamate con una adesso non me ne vengono in mente ma non so ne conoscete qualcuno voi il sito dove studiare giapponese e kanji faccio videochiamate con una mia amica giapponese ed è stato davvero utile per arrivare fino a questo livello grazie per le app è assolutamente vero ti cambia la vita fare videochiamate conversazioni chat penso che sia la festa della scuola giapponese ah ok non lo sapevo matanè e cosa ho scritto di matanè Andrea no Andrea Giraldo no non Andrea tu Andrea ci mancherebbe Andrea del canale Green Noise la fanno ogni ogni anno la festa della scuola giapponese di via Razaga ok ragazzi abbiamo toccato un'ora io sono soddisfatto penso di aver risposto alle tue alle tue domande mostra domanda di giralta giapponionlinesakura.com metto mostra perché Andrea merita ok quindi vi ringrazio per essere per aver usato quest'ora della vostra domenica per usare mia compagnia spero di avervi aiutato in qualche modo allora questa sarà l'ultima live della di questa stagione di TVA di Giappare ok io martedì parto per due settimane in Giappone ma ho già registrato i video quindi usciranno regolarmente fino alla fine di novembre ok il 25 esce il libro su Amazon e dopodiché dicembre ok ti vado a Giappare vai in vacanza ok me ne vado me ne vado un po' in friuli a fare le vacanze di Natale e ci si vede poi a gennaio ok allora vi ringrazio buon viaggio grazie grazie mille grazie per la live ci vediamo a Milano grandi Sabrina Andrea e ok Simone stasera non c'è ma ok poi lo sentiremo ci vediamo se siete in Giappone ci vediamo i due sabato che verranno a Odaiba e Osaka se siete se non siete in Giappone ci vediamo il 2 dicembre a Milano ore 17 in piazza Indro Montanelli va bene buon viaggio il libro lo voglio grazie alla prossima Fabrizio grazie buon volo ad Ezzabra cos'è milanese milanese grazie di tutto ciao ciao presto grazie grazie ragazzi vi ringrazio ci si vede a Milano il 2 dicembre qualsiasi domanda mi raccomando ci sentiamo nei commenti o nei messaggi dove cacchio volete e se fate il GLA PT buon esame e ciao a tutti ci si vede presto grazie buona serata buona domenica arrivederci buona domenica